Ciao e benvenuto in un nuovo video di Finance Drip. Quest'oggi parleremo di volatilità, che cos'è e che impatti ha sui nostri investimenti. Premetto che la volatilità è un argomento molto complesso e in diversi punti abbiamo cercato di semplificare. Se hai ulteriori spunti di riflessione e osservazioni ti invitiamo a lasciarli nei commenti e potremo approfondirli in un prossimo video live streaming. Iniziamo! Che cos'è la volatilità? La volatilità è una misura statistica della dispersione dei rendimenti di un determinato titolo o indice. In altre parole rappresenta l'ampiezza delle oscillazioni dei prezzi intorno al prezzo medio. Per fare un esempio pratico un'azione volatile vedrà un movimento del prezzo più accentuato e repentino sia al rialzo che al ribasso. Al contrario un'azione poco volatile tenderà ad avere un prezzo più stabile. La volatilità è un indicatore molto utile per gli investitori in quanto va a modificare le aspettative su possibili scenari legati ai rendimenti del proprio portafoglio. Ad esempio un investitore focalizzato sul mercato azionario avrà in portafoglio molte posizioni con una spiccata volatilità e potrà tendersi guadagni maggiori come cali più pronunciati in caso di mercato negativo. Un investitore prudente o che potrebbe spaventarsi di fronte delle oscillazioni al ribasso farebbe meglio focalizzarsi su asset con inferiori potenzialità di rendimento ma una minore volatilità. Tipicamente azioni e obbligazioni speculative e materie prime hanno una volatilità più elevata dei titoli obbligazionari investment grade che a loro volta potrebbero essere suddivisi per durata. Ma perché gli asset hanno volatilità differenti? Ogni azione, obbligazione e materia prima ha delle proprie caratteristiche ed è soggetta alla dinamica di domanda e offerta. La domanda è a sua volta influenzata dalle aspettative degli investitori che in molti casi cercano di anticipare i trend del mercato o dell'economia reale. Spesso i mercati si muovono in anticipo sulla base delle previsioni degli investitori. Per fare un esempio recente, a dicembre 2023 le obbligazioni lunghe hanno visto un forte aumento della domanda e quindi del prezzo. Questo non perché ci sia stato davvero un taglio dei tassi ma perché gli investitori se lo aspettano e cercano di anticiparlo comprando i titoli a lunga scadenza prima che salgano. I titoli a lungo termine di conseguenza iniziano a salire di prezzo smorzando l'impatto del taglio dei tassi quando avverrà. Questa tendenza ad anticipare in alcuni casi può essere rischiosa in quanto non è detto che le previsioni in futuro saranno azzeccate. I tagli potrebbero avvenire più lentamente o più in là del previsto. Le bolle speculative ad esempio avvengono quando gli investitori, mosse da aspettative eccessivamente ottimistiche, inflazionano al prezzo di alcune azioni o categorie di azioni. Quando poi il mercato si rende conto che prezzi non sono coerenti con la realtà dei fatti le scarica velocemente. Per tornare alla volatilità pensiamo ad un titolo di stato a breve termine che sta per rimborsare 100. Gli investitori non saranno disposti a venderlo o comprarlo ad un prezzo molto diverso da 100. La volatilità di questo sarà molto bassa ed è inverosimile pensare che il prezzo possa salire o scendere molto. Pensiamo invece a un'azione come Coca Cola con un business piuttosto stabile e moderate prospettive di crescita futura. Certamente gli investitori ne saranno più o meno attratti in funzione dell'andamento societario e dei bilanci facendo oscillare il prezzo. Tuttavia le aspettative non potranno essere eccessivamente ottimistiche o pessimistiche. È inverosimile che Coca Cola triplichi o di mezzi fatturato. Coca Cola è un esempio di azione con una volatilità inferiore alla media apprezzata da investitori difensivi e che desiderano un dividendo costante e prevedibile. Pensiamo invece ad S.M.L. multinazionale che opera nel settore dei microchip ed unico fornitore al mondo di macchine per la litografia ultravioletta estrema utilizzata per produrre alcuni tra i chip più potenti. Il settore dei microchip è letteralmente esploso con l'evoluzione tecnologica ed è davvero difficile prevedere quali saranno le sue implicazioni future. Di conseguenza moltissimi investitori sono attratti da questa azienda e altre aziende del settore per via della potenziale crescita esponenziale della tecnologia. Il prezzo di S.M.L. riflette queste elevate aspettative. Le azioni vengono prezzate oltre 40 volte gli utili annuali e negli ultimi 5 anni sono cresciute del 419%. Ma non è tutto rose e fiori. La concorrenza è forte e la tecnologia si evolve velocemente. Il mercato potrebbe cambiare e la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina potrebbe minare la crescita di questo genere di aziende. Inoltre se il prezzo delle azioni è molto alto l'azienda deve continuare a crescere molto per giustificarne il valore. Eventuali problemi del business potrebbero portare ad un crollo molto rapido delle valutazioni. A.M.L. è un esempio di azione molto volatile con movimenti giornalieri che possono addirittura arrivare al 5% in caso di notizie particolarmente positive o negative. Le aspettative sul futuro, la geopolitica e i cambiamenti tecnologici hanno un grande impatto sulla domanda di questo titolo. Questi esempi per far capire che ogni titolo presenta una diversa volatilità e che spesso è in funzione della prevedibilità e delle aspettative circa i rendimenti futuri. Ma come utilizzare la volatilità? La misura della volatilità può essere utile agli investitori per analizzare le proprie performance. Oltre che confrontarli tra loro, gli asset vengono confrontati con una media di mercato. La misura che ne deriva è definita beta. Se per esempio il nostro benchmark di riferimento è l'S&P 500 e il nostro portafoglio ha un beta dello 0,9 vuol dire che quando l'S&P si muove dell'1% il nostro portafoglio lo fa dello 0,9%. In questo caso il nostro portafoglio è meno volatile dell'S&P 500. Un beta più elevato indicherebbe movimenti superiori a quelli del benchmark nello stesso periodo di tempo. Ogni investitore farebbe bene ad avere un benchmark di riferimento al fine di comprendere come si sta comportando il proprio portafoglio anche da un punto di vista della volatilità. Su Finance Drip puoi trovare indicazione della volatilità di un titolo all'interno della sua scheda, mentre puoi osservare la volatilità complessiva di un portafoglio all'interno della dashboard. Il benchmark dovrebbe essere comparabile con il portafoglio. Se sei un investitore conservativo e investi con un 2080 non avrebbe molto senso paragonarlo con il Nasdaq. Potrebbe essere più coerente confrontarlo con un MCI World al 20% affiancato ad un Euro Government Bond per l'80. World ed Euro Bond sono un benchmark piuttosto comune per gli istituzionali, fondi pensione e gestori di fondi, in quanto consentono di avere un bilanciamento tra azionario e obbligazionario, con un rischio valuta controllato. In questo modo un investitore potrebbe confrontare la volatilità e rendimento della propria asset allocation con un ipotetico portafoglio molto semplice e diversificato. Questo sul lungo termine può essere indicativo della bontà delle scelte effettuate. Osservando i dati passati possiamo osservare che portafogli con asset molto decorrelati tendono ad avere un profilo rischio rendimento migliore. Ad esempio i portafogli composti da azioni, titoli di Stato e oro hanno dimostrato un'efficienza sistematicamente maggiore di portafogli 100% azionari o obbligazionari. Questo non vuol dire che portino a profitti superiori ma che sono in grado di fornire un buon rendimento con un livello relativamente basso di volatilità. Detto ciò potrebbe sembrarti che la volatilità sia una cosa negativa e da evitare. Per questo molti investitori la utilizzano come una misura del rischio degli investimenti. In fin dei conti se un investimento è molto volatile potrebbe scendere molto ed è quindi logico considerarlo rischioso. Ma è davvero così? La volatilità è davvero una buona misura del rischio? La volatilità è un fattore molto importante da considerare per quanto riguarda la finanza comportamentale. Non tutti gli investitori sono in grado di sopportare emotivamente una volatilità molto alta e potrebbero stare male fisicamente osservando il proprio portafoglio scendere del 10% del valore. Come dicevamo all'inizio del video è una di quelle misure utili per la scelta dei titoli che è fortemente personale in virtù delle caratteristiche dell'individuo. Se la volatilità fosse sempre un'adeguata misura del rischio il denaro potrebbe essere considerato a rischio zero in quanto il suo controvalore è sempre il medesimo. Il conto corrente non ha volatilità e questo è il motivo per cui molti individui si sentono più tranquilli detenendo cash anziché strumenti finanziari. Tuttavia a causa dell'inflazione il potere d'acquisto del denaro scende continuamente ed inesorabilmente. Questo sul lungo termine porta una perdita secca ed irrecuperabile del potere d'acquisto. In altre parole ti impoverisce. Se consideriamo come rischio la perdita del potere d'acquisto il cash è uno degli strumenti peggiori in quanto ti garantisce una perdita. Al contrario un titolo di stato a breve termine con una bassa volatilità grazie al pagamento degli interessi ti consente di far crescere il tuo capitale nel tempo. In questo senso nonostante il denaro abbia una volatilità zero e il titolo di stato l'abbia bassa il secondo è decisamente meno rischioso del primo. Nella quasi totalità dei casi ti ritroverai con un potere d'acquisto maggiore dedicando maggior capitale ai titoli di stato piuttosto che alla liquidità. L'inflazione però potrebbe essere più elevata del rendimento del titolo di stato. Ad esempio il titolo di stato potrebbe rendere il 3 ma l'inflazione essere il 4. In questa situazione il denaro ti farebbe perdere il 4% del potere d'acquisto l'anno mentre il titolo di stato l'1%. In questo frangente le obbligazioni migliori sono quelle indicizzate all'inflazione in quanto ti consentono in ogni caso di proteggere il tuo capitale dall'erosione pagandoti cedole più alte in caso di rialzo dei prezzi. Ma c'è un asset che è ancora più efficace. Inserire in portafoglio azioni compatibilmente con la tua tolleranza alla volatilità avrebbe l'effetto di aumentare il rendimento complessivo nel lungo termine permettendoti di battere più efficacemente l'inflazione. Uno dei motivi è che quando i prezzi si alzano le aziende guadagnano di più ed un aumento degli utili può portare conseguentemente ad un incremento delle valutazioni. Se includiamo l'inflazione possiamo concludere che la volatilità presa da sola non sia un'adeguata misura del rischio e che se si è disposti a tollerare le oscillazioni e si punta a lungo termine le azioni non sono necessariamente un asset rischioso. Siccome i mercati hanno la tendenza a crescere la probabilità di incorrere in una perdita scendono drasticamente con l'aumentare del tempo di detenzione. Questo a patto di investire in indici molto ampi e non singoli titoli molto più inaffidabili nel lungo termine. A nostro avviso un approccio prudente punta sì ad un portafoglio con una volatilità mediamente bassa ma senza rinunciare a diversificare in azioni. Per raggiungere questo scopo possono aiutarci gli etf a bassa volatilità. Gli etf a bassa volatilità sono etf che investono solo in aziende che presentano oscillazioni del prezzo inferiore alla media. Grazie all'ampia diversificazione permettono di dare strategie al portafoglio mantenendolo semplice. In questi tf non troverai azioni come asml, tesla, microsoft ma piuttosto aziende stabili che operano in settori maturi con ritorni imprevedibili e dividendi più elevati della media. Gli investimenti a bassa volatilità forniscono profitti nel lungo termine ma con minori oscillazioni resistendo meglio a crisi e periodi di difficoltà dei mercati. Oltre che la bassa volatilità esistono altri fattori di investimento. Se l'argomento ti incuriosisce ti invitiamo a farcelo sapere nei commenti. Ti lascio in descrizione alcuni nostri articoli sul tema nel caso volessi leggerli. Alla prossima!